Una ordinanza destinata a fare giurisprudenza e far partire una lunga serie di ricorsi. Il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso di un concessionario demaniale di Rosolina Mare seguito dall'avvocato Valerio Migliorini, sospendendo con un'ordinanza il decreto ministeriale che aveva stabilito l'aumento del 25% dei canoni demaniali deciso lo scorso dicembre dal Ministero delle Infrastrutture. L'incremento più alto di sempre dei canoni demaniali marittimi, il cui calcolo a livello nazionale viene adeguato agli indici Istat sull'inflazione, mentre per il 2023 era stata fatta la media sul paniere Istat tra il 40% in più dei prezzi all'ingrosso e il 9% dei prezzi al dettaglio riferiti al 2022, generando così un balzo del 25%. Abbiamo accolto con grande favore l'ordinanza del Consiglio di Stato che di fatto ha decretato illegittimo il decreto 321 del 30 dicembre scorso. Già a suo tempo avevamo sottolineato l'inopportunità di questa accelerazione per la prima volta un aumento così importante che finiva di fatto per penalizzare il Veneto, un territorio virtuoso dove da tempo i canoni demaniali minimi non sono presenti e già vengono indicizzati su quella che è la dimensione in metri quadrati delle concessioni. Più volte in queste settimane, in questi mesi abbiamo ribadito come il tema della questione balneare debba essere affrontato in una riorganizzazione organica del settore e non con degli scatti in avanti come era stato appunto nel caso del decreto di dicembre. L'aumento è stato sospeso, per il momento questo provvedimento è stato sospeso solo per l'azienda che ha presentato questo ricorso ed è proprio per questo che già la settimana scorsa quando abbiamo avuto menzione di questa importante informazione ci siamo confrontati al nostro interno, supportati anche dal nostro team legale, abbiamo già preso contatto anche con l'Agenzia del Demanio proprio per avviare un'azione collettiva e per far sì che tutti i concessionari che afferiscono al nostro sistema possano nei prossimi giorni presentare un ricorso pluralistico e collettivo. Ricordiamo che il Veneto è la regione che paga di più dal punto di vista dei canoni demaniali, andiamo dalla situazione come dire più importante che è quella della Bibione Spiaggia, oltre 600 mila euro di canone che appunto avrebbero avuto un incremento di 150 mila euro ma ci sono anche i 300 mila euro di Caorle, i 250 di Venezia.